e ciao a tutti farmer spero tutto bene abbiamo sistemato tutta la brina perché arriva jean martin perché francese fortier perché lunedì pasquetta ci abbiamo qua 50 persone a mangiare tutti amici vengono qua fanno la grigliata si trovano bene ti faccio vedere come abbiamo preparato abbindato tutta la brina bs magari uno sai la brina è uno dei miei due terreni abbiamo il podere che il terreno originario poi c'è la brina che è la nostra produzione siamo dalla prima roba ma che roba ma che robina belle no e abbiamo fatto i cartelli belli spessi di dietro c'è grappa che guarda ma che roba senti qualità qua quindi partiamo da inizio maggio con la vendita degli ortaggi apriamo il cancello ciao grappa tutto bene si grappa oggi sapete una roba gli ho messo per le pulci tipo l'avant x gli è diventato tutto il pelo bianco non so perché questa roba non non è buona vero grappa tra petto allora se che lo guardiamo insieme alla bicicletta della fede primo lato che dopo mettiamo un pochino a posto con il bracere qua andremo a fare tutta la nostra pasquetta devo andare a prendere ancora tutti i tavoli e ci abbiamo già il nostro bbq che questo ci abbiamo il nostro bracere che ora andiamo a togliere perché stiamo radunando tutta la il chiodi ferro che stiamo trovando veramente un sacco qualato un attimino così un po più carino perché dietro c'è il faccio vedere c'è tutto il carro prossimo progetto anche questo e davanti tac ci abbiamo già il cartello perché il 5 maggio incominciamo con la vendita ortaggi speriamo bene poi andiamo a vedere sotto tutto il punto vendita perché stiamo mettendo a posto il punto vendita perché appunto si incomincia il 5 quindi abbiamo montato tutto il nostro carrellino bello carissimo poi abbiamo tutto il nostro praticamente metteremo tutti i nostri taggi le ceste di ortaggi va ancora sistemato un attimo perché lì stiamo mettendo a posto un attimino l'irrigazione la col fede qua abbiamo l'acqua per tutto il pasquetta c'è c'è da bere il vino arriva e non andiamo solo acqua abbiamo sistemato un attimino il nostro semenzaio quindi vedevo col fede l'altro giorno che dove la camomilla la camomilla insomma è partita qua le piantine stanno ancora un attimino indietro ma c'era la camomilla che non mi ricordo più dov'è insomma stava incominciando a sbucare fuori temperatura non benissimo però ce la stiamo cavando grappa fuori poi ti faccio vedere intanto stiamo finendo di mettere tutte le manichette dell'irrigazione quindi andare a attaccare il tutto in modo tale che da qua maledetti maledetti piccioni maledetti allora da qua partiranno tutte le fasce delle gocciolanti quindi ci sta il sovescio che stiamo gli stiamo dando davvero un botto sta partendo sono veramente contento vedi ma che bello ma che roba bene 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 molto bene vero grappa brava vi faccio vedere anche allora qua abbiamo sistemato abbiamo tutti gli alberi che stanno partendo tutti quelli che abbiamo trapiantato perché li abbiamo spostati sono tutti 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 anche quello non sembra ma sono tutti in fiore cioè fiore stanno sbocciando tutti questa cosa qua un bel successo stiamo dandovi un sacco di acqua la c'è il fede che sta mettendo a posto tutta l'irrigazione perché così tutta questa parte che abbiamo sarà tutta coperta anche questa di alla gocciolante perché dopo fede come siamo messi a piantine 20 20 aprile arrivano le nuove 14 aprile arriva altre 10.000 e che cosa mettiamo giù ora a sto giro ora arriva ancora insalate radicchi ancora carote mettiamo giù il rappanello che lo seminiamo la rucola la rucola seminiamo lo spinaccio prezzemolo arriva ai fiori arrivi tacete quindi un po di robe dopo inizio maggio andiamo comodori zucchine tutto che angurie meloni aspettiamo perché c'è le gelate sono state con noi un po infamia bene bene comunque l'orto qua procede veramente bene vi faccio vedere anche una cosa di cui vado molto orgoglioso che è questa la faccio vedere venite con ma allora l'agnellino sta bene si nasconde sempre la dentro non capisco perché ho messo questa palla tac bam niente boris hai trovato l'investimento delle tue giornate tac bam ora è un degno avversario con cui sfogarti dobbiamo capire perché il ramo lì sopra glielo ho messo ma probabilmente no ora lo lasciamo un attimino sfogare dopo cambiamo postazione la nostra capannina direi che funziona niente male come vedi boris mi segue sempre questo qua non pensate perché mi vuole bene perché vuole stuzzicarmi andiamo in questo percorso per questo percorso sarà il percorso attorno alle pecore la seconda parte di recinto delle pecore e qua praticamente abbiamo se di boris va bene questa parte qualche calpestando fa tutto il giro e qua metteremo puliamo dobbiamo sistemare perché qua abbiamo il tombino nella corrente quindi qua viene fatta una capannina qua metteremo giù le galline riportiamo qua in modo tale da avere i tre quarti degli animali hanno questo piccolo boschetto che andiamo un attimo a pulire ragazze dopo vi dico il sogno qual è se i vicini ci affittano questo terreno mettiamo giù anche gli asini la sera naturalmente stanno da noi e di giorno vanno al pascolo però vogliamo naturalmente il massimo per i nostri animali quindi tanto spazio faccio vedere anche l'agnellino sta veramente bene che bello carino che quindi niente direi che ci siamo quindi un po la nostra farm sta andando avanti questi giorni sono stati belli pieni ma abbiamo voglia soprattutto tanta voglia questa pasqua di stare con tanti amici ritorna la pasquetta con tanta gente al podere dovevamo essere in 15 secondo me saremo una sessantina oggi confermati sono 55 ma cinque si aggiungono sempre non è aperto al pubblico sono solo amici è però l'amico che dice non posso portare mio figlio posso che gli fai gli dici no quindi va bene dai pasqua insieme tante bellezza farmer niente ci vediamo un prossimo video basta basta così buona pasqua a tutti ciao ciao